Musica Metà peperoni tagliato, un po' di prezzemolo, due spicchi di aglio, un po' di dado, pepe nero, sale, olio, un cipollone verde, una cipolla normale tagliata, 400 grammi di carne macinata, due bicchieri di riso, qualche folle di verza e dei peperoni. Il pomodoro concentrato, io metto il concentrato, invece voi potete mettere qualsiasi tipo del pomodoro. Questi sono tutti gli ingredienti che io oggi preparo, i peperoni critico. Mettiamo l'acqua a vuole, mettiamo i peperoncini per ammorbidirsi un po', lasciamoli per 4 minuti. Cominciamo a fare l'impieno, mettiamo l'olio con la cipolla e l'aglio. Mettiamo l'acqua a vuole, mettiamo i peperoni. 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 Mettiamo i peperoni.